bella a tutti ragazzi e vi faccio salutare da Umbertignao Umbertignao presente, ciao ragazzi comunque oggi siamo qui con un saluto strano e con un nuovo video siamo su un gioco di rugby roma che cosa dici? sul gioco di rugby, oddio si rugby roma di Rugby World Cup di Rugby World Cup portiamo un piccolo gameplay ecco generalmente perché non ho affatto più perché è giusto per giocare per portare un video diciamo un video nuovo e se vi piace questo gioco lo potremmo anche fare anche un video ovviamente la fa lui perché io sono in sega mi usa per ritardo e comunque dovevamo dire un po' di cosa allora innanzitutto abbiamo fatto una piccola diciamo rivoluzione nel canale perché abbiamo deciso di caricare costantemente i video perché ovviamente non ce la facciamo più perché gli altri non caricavano video diciamo però vabbè abbiamo deciso di caricarli e alla fine dovremmo riuscirci sì anche perché io adesso ho ripreso il computer che non avevo cioè mi sei riparato diciamo mi sei riparato l'ho portato a riparare e quindi adesso io farò un video al giorno e ne carico uno sì e uno un giorno sì e un giorno no per tutta l'estate ragazzi se mi sentirete mi sentirete da lui perché c'è successo il contrato il computer lui mi si è rotto mi si è rotto ma a tempo di una settimana per essere a casa penso quindi non vi preoccupate tornerò a conoscere i video di FIFA con squadre e tra poco ci sarà anche un contesto con pinflips ora vediamo per quanto riguarda questi anni proseguiremo sempre con dei trucchi con solo trucchi perché ormai i gameplay non si ricavano di nessuno più che altro non sappiamo che fare perché oltre alle solite cose della polizia come il bimbo di minchia non sappiamo che fare e poi e proprio ci sono altri giochi ah sì minecraft ecco ecco problematica di minecraft allora l'ale o il minecraft come lo chiamiamo tutti che ha fatto ha cancellato il driver come abbiamo già detto dal computer del no l'ho detto nell'altro video io non l'ho caricato ah ok abbiamo altro video allora ok e praticamente che ha fatto ha cancellato il driver quindi del wifi e quindi lui non può fare più non si può più con il trago di conseguenza non può giocare a minecraft il lan come faceva lui e lui e ovviamente intendo il polo che non può giocare il polo non può giocare però Ale poi non gli va più non gli va di fare quindi Ale diciamo che non è pieno nel canale diciamo più o meno cioè diciamo non è pieno nel canale come sono problematiche scolastiche non riguardanti in scuola ma riguardanti in youtube esatto perché che ha combinato i suoi amici diciamo amici lo prendono in giro così ci ha detto strillo e si e poi ovviamente ha detto che non si scorcia a fare i video perché lo prendono in giro e quindi boh quando tornerò ovviamente basta che carica i video noi noi siamo una famiglia quindi lo accogliamo come sempre esatto ah voglio dire questa qua è la demo questa è la demo è la demo e io perché devo ancora compermi il gioco completo eccola allora ecco ovviamente se vi piace farò un vado avanti faccio una serie e ah e per chi non conosce le regole del red mi interessa ecco vi lascio un video in descrizione vi spiegherò tutte le regole e sono sicuro che non vi annoglierete perché farò capire voi però è un trucco sai la tua la tua la tua la tua tattica ah vi devo far vedere la mia tattica ho perduto me ne hai fatto 10 metri adesso pure fallo no ti ho preso l'orda io eccola fallo però oh è una placata senza pallone si prendevi il pallone lo buttavo via quando è andato a casa sapevo per arrivare guarda se non devo piegare la meta ragazzi sono i miang non si passa cosa è una cosa mia ecco la oddio lo schema oddio oddio lo ci vedo però io così oddio è proprio il microfono vicino eh si sente non ti preoccupare poi dobbiamo aprire il microfono assolutamente ragazzi se c'è sto attenzione ahhh ahhh no yes a 40 ah beh devi realizzare da lì da lì è impossibile che lo realizzi ci può essere vai ci può stare attenzione ed entra al 40 con il calcio perfetto porca troia finisce la prima partita ragazzi ve ne portiamo un'altra perché ci sta la bella diciamo